Gli studenti di Genova sono scesi in piazza per protestare contro la riforma Gelmini. Il corteo, partito da caricamento, ha attraversato le vie del centro città. Davanti alla prefettura la protesta si è cesa e non sono mancati gli scontri con le forze dell'ordine. Il corteo ha poi proseguito verso piazza del Ferrari, dove i manifestanti hanno occupato simbolicamente il Ducale. Gli studenti hanno proseguito la protesta in sopra elevata, causando disagi e raviabilità.